e mi hai pensato a un septum qualcosa del genere no piercing in faccia non ci ho mai pensato non mi piacciono ma hai di piercing solo sulle orecchie anche sono comunemente chiamati capelli lunghi dicono comunque maggior parte c'è tipo questo ok vengono chiamati un po ce ne hai all'ombelico no non mi piace non mi piacciono gli unici che mi piacciono sono ai capezzoli però non me li farei perché già io ho un seno abbondante e non c'è così vorrebbe dire ancora metterlo più in mostre non non è cioè se avessi tipo una prima una seconda ci starebbe un botto sì però se vero ci stanno quelli però guarda devi sentire te la tele